Sabato 26 luglio, appuntamento a Giulianova con Notte Alta, giunta la terza edizione. Assessore, ricordiamo di che si tratta? Si tratta di una delle notti tipiche italiane che si sviluppa all'interno del centro storico di Giulianova. È giunta la terza edizione, mi impegna come amministratore per la prima volta, ma so già che negli anni passati ha avuto un grande successo. Lo riproponiamo quest'anno in modo episodico, sperando un altro anno di includerlo in un programma più vasto, che è quello di un accentramento della cultura, giugliese e non, al centro storico. In una posizione assolutamente concorrenziale rispetto ad un calendario regionale di eventi culturali e vorrei provare a dire con ardimento una osservazione che è quella di proporci una nuova idea di macro-regione culturale. Guardando di qui al tronto di cose da fare insieme alla regione Marche ce ne sono tante. Dalle 18 diciamo che finiremo gli allestimenti, quindi inizieranno le varie prove di ogni spettacolo, ci saranno vari mercatini e ci sarà già un'animazione da parte dei buskers che interverranno per tutta la notte. In più inizierà il concorso coreografico della Hip Hop Generation in Piazza Bozzi e anche qui lo spettacolo si pretarrà fino a notte fonda. Sono tutti spettacoli vari, diversi, per accontentare un po' tutte le esigenze di pubblico. Il clou è rappresentato dal concerto di Gioia di Marco ma anche gli altri spettacoli sono da vedere e da godere anche per chi non è assolutamente a conoscenza di certi movimenti culturali o subculturali della zona ma avrà modo di scoprire anche altre cose molto interessanti.